la chiave d'argento lovecraft a 30 anni randolf carter perse la porta della porta dei sogni fino ad allora egli aveva compensato la prosaicità della vita con escursioni notturne in antiche strane città oltre lo spazio e nelle incantevoli incredibili regioni dei giardini al di là dei mari eterei ma quando sentì incombere la mezza età questi privilegi cominciarono a sfuggirgli a poco a poco finché non ne fu completamente tagliato fuori le sue garee non potevano più risalire il fiume ucranos oltre i pinnacoli dorati di tran e le sue carovane d'elefanti viaggiare attraverso le giunghe profumate di cled dove palazzi dimenticati dalle colonne striate d'avorio dormono un dolce sonno ininterrotto sotto la luna egli aveva molto letto su come stanno davvero le cose e aveva parlato con troppa gente filosofi ben intenzionati che avevano insegnato ad indagare le relazioni logiche fra le cose ed analizzare i processi che plasmavano i suoi pensieri e le sue fantasticherie ogni meraviglia era svanita ed egli aveva dimenticato che la vita non è nient'altro che una teoria di immagini nella mente che non c'è differenza fra quelle nate dalle cose reali e quelle scaturite da sogni segreti e che non c'è motivo di ritenere più vere le prime delle seconde il conformismo lo aveva indotto a una superstiziosa differenza verso tutto ciò che esiste tangibilmente e fisicamente e lo aveva reso segretamente vergognoso di abbandonarsi alle visioni uomini assennati gli dicevano che le sue ingenue fantasie erano sciocche e infantili ed egli giunse a crederlo perché si rendeva conto facilmente che spesso era proprio così ma dimenticava che le azioni concrete sono altrettanto vacue infantili e anche più assurde perché chi le compie si ostina ad attribuire loro un significato e uno scopo mentre il gioco cosmo gira senza meta dal nulla verso l'esistenza e dall'esistenza verso il nulla indifferente inconsapevole dei desideri e della stessa esistenza delle menti che per un istante proiettano uno spazio di luce nel buio avevano incatenato alle cose che esistono e gli avevano spiegato i loro meccanismi finché ogni mistero era svanito dal mondo quando se ne ramanicava e desiderava fuggire nei sogni del crepuscolo dove la magia forgiava vividi piccoli frammenti e preziosi associazioni della sua mente in visioni straordinarie che toglievano il fiato e gli davano un piacere inesauribile gli altri lo invitavano a rivolgere la propria attenzione agli ultimi prodigi della scienza a scoprire la meraviglia nel vortice degli atomi e il mistero nelle dimensioni degli spazi celesti e poiché non riusciva ad appagarsi delle cose e cui leggi sono conosciute e quantificabili gli dissero che era privo di immaginazione ed immaturo perché preferiva le illusioni dei sogni a quelle della concreta creazione fisica così carter aveva cercato di fare quel che facevano gli altri fingendo che i fatti d'ogni giorno e le emozioni delle menti rozze fossero più importanti delle fantasie di anime eccezionali raffinate non trovò da ridire quando gli spiegarono che il dolore animale di un maiale che è stato trafitto o del contadino di speptico nella vita reale più grande dell'ineguagliabile bellezza di narat con i suoi cento portali scolpiti e le sue cupole di calcedonio che ricordava vagamente d'aver visto in sogno e gli coltivava uno scrupoloso senso della pietà e della tragedia tuttavia di quando in quando non poteva impedirsi di vedere quanto futili vacue e insignificanti siano le aspirazioni umane e come i nostri veri impulsi contrastino duramente con i pomposi ideali in cui professiamo di credere allora ricorreva alla risorsa del sorriso educato che gli avevano insegnato a contrapporre alla bizzarria e all'artificiosità dei sogni poiché si rendeva conto che la vita quotidiana nel nostro mondo è altrettanto stravagante e artificiosa e anche meno degna di rispetto priva di bellezza com'è e assurdamente restia a riconoscere la propria mancanza di ragione e di scopo in questo modo diventò una specie d'umorista involontario perché non si accorgeva che anche l'umorismo è vuoto in un universo insensato e privo di qualsivoglia grado di coerenza o incoerenza nei primi giorni della sua schiavitù sarà rivolto alla nobile fede religiosa resagli cara dall'ingenua fiducia dei suoi padri perché da essa si dipartivano le misteriose vie che sembravano promettere una fuga dalla vita solo quando l'ebbe studiata egli notò la mancanza di fantasia e di bellezza la stantia e prosaica banalità la lugubre seriosità e le grottesche pretese di verità irrefutabile che regnavano noiose e soffocanti fra la maggior parte dei suoi adepti si rese conto della goffagine in cui si cercava di tenere in vita alla lettera e paure le congetture ormai superate di una razza primitiva posta di fronte all'ignoto carter si stancava vedendo con quanta solennità la gente si sforzasse di tradurre in realtà terrene i vecchi miti che ogni nuovo passo della tanto decantata scienza confutava quella mal riposta serietà uccideva l'attaccamento che avrebbe potuto conservare per la vecchia fede se i riti altisonanti e gli sfoghi emozionali fossero stati presi per ciò che erano evanescenti fantasie ma quando cominciò ad occuparsi di quelli che si erano sbarazzati dai vecchi miti ritrovò ancor più ripugnanti di coloro che non lo avevano fatto esse non sapevano che la bellezza è figlia dell'armonia e che quest'ultima non trova riscontro nel cosmo insensato salvo che nella sua consonanza con i sogni e i sentimenti che furono e che ciecamente modellarono le nostre piccole sfere traendole dal caos generale essi non vedevano che il bello e il male il bello e il brutto sono solo frutti accessori della prospettiva il cui unico valore risiede nel legame con ciò che il caso fece credere e sentire ai nostri padri i cui dettagli più fini differiscono da una razza e da una cultura all'altra al contrario i materialisti negarono in blocco simili cose oppure le assimilarono ai rozzi indefiniti istinti che condividevano con le bestie e gli zotici sicché la loro vita si trascinava miserabilmente nel dolore nella bruttezza e nella mancanza d'armonia seppur permeata dal ridicolo orgoglio di essere sfuggiti a uno stile di vita non più man sano di quello che ancora li sosteneva avevano barattato i falsi dei della paura e della ciacca bontà con quelli della licenza e dell'anarchia carter non assaporò queste moderne libertà perché la loro squalli da volgarità ripugnava a uno spirito assetato unicamente di bellezza mentre la sua ragione insorgeva contro la fragile logica con cui i loro paladini cercavano di rivestire gli impulsi bruti di una sacralità strappata agli idoli che avevano messo da parte vide che la maggior parte di essi alla stregua delle tanto esecrate classi religiose non riusciva a liberarsi dall'illusione che la vita abbia un senso oltre a quello che le attribuiscono agli uomini e non sapeva sbarazzarsi delle sue rozze nozioni di morale e di dovere oltre che di bellezza e ciò anche quando la natura alla luce delle scoperte scientifiche urlava tutta la propria insensibilità impersonale a moralità guastati resi fanatici da preconcette illusioni di giustizia libertà e coerenza presbingevano le vecchie tradizioni le vecchie abitudini insieme con le antiche credenze senza fermarsi a pensare che proprio quelle tradizioni e quelle consuetudini costituivano le fondamenta dei loro pensieri e giudizi attuali da sola guida e misura in un universo privo di significato senza scopo né stabili punti di riferimento perduta questa fittizia interaiatura la vita di quei disgraziati si svolgeva senza una meta né veri interessi esistenziali finché alla lunga si vedevano costretti ad annegare la noia nella confusione e in pretese di utilità né trambusto né l'eccitazione in ostentazioni barbariche in sensazioni animalesche quando queste cose stancavano deludevano diventavano nauseanti per reazione si davano a coltivare l'ironia e l'amarezza o a cercare difetti nell'ordinamento sociale senza mai rendersi conto che le basi su cui poggiava la loro esistenza erano instabili e contradditorie come gli dèi dei loro vecchi e che il piacere di un momento diventa veleno in quello successivo serena e durevole è soltanto la bellezza donata dal sogno e il mondo ha gettato via questa consolazione quando nel suo idolatrare la realtà ha sciupato i segreti dell'infanzia e dell'innocenza in questo caos di falsità e di inquietudine carter cercò di vivere come si conveniva ad un uomo di pensiero profondo e di buone tradizioni familiari se da un lato i suoi sogni gli sembravano infantili a causa dell'età dall'altro non riusciva a credere in niente di diverso ma l'amore dell'armonia lo legava alle consuetudini della sua razza e della sua classe sociale passeggiava impassibilmente per le città degli uomini sospirando perché nessuna vista gli sembrava veramente reale perché ogni giallo riflesso di sole sugli alti tetti e ogni scorcio di terrazzo con balaustre sotto le prime stelle della sera servivano solo a riportargli alla mente i sogni di una volta risvegliando la nostalgia per gli eteri paesi che ormai non sapeva più come ritrovare viaggiare era solo una beffa anche la grande guerra lo turbò ben poco sebbene avesse servito fin dal principio nella legione straniera francese per un po' cercò amici ma si stancò quasi subito delle loro rozze emozioni della monotona uniformità delle loro visioni si sentì piuttosto lieto di non avere parenti stretti né di essere in contatto con gli altri perché non avrebbero mai potuto capire la sua vita intima nessuno c'era riuscito ad eccezione del nonno e del prozio christopher che però erano morti da tempo allora una volta di più cominciò a scrivere libri dopo aversi rinunciato dal momento in cui i sogni avevano smesso di visitarlo non ne trasse alcuna soddisfazione o sollievo perché il tocco delle cose materiali aveva sfiorato la sua mente e non riusciva più a pensare alle meraviglie del passato l'umorismo demoliva e crepuscolari minaretiche egli innalzava la paura grossolana dell'improbabilità faceva appassire i fiori delicati e stupefacenti dei suoi giardini fatati le convenzioni del sentimentalismo rendevano stucchevoli e affettati i suoi personaggi mentre il mito di una realtà importante di eventi e di emozioni umane significative avvilivano la sua alta fantasia trasferendola sul piano di allegorie appena velate e di una dozzinale satira sociale i suoi nuovi romanzi ottennero un successo sconosciuto ai precedenti e poiché sapeva quanto dovessero essere vuoti per piacere a un greggio vuoto li bruciò e si mise a scrivere in realtà erano romanzi graziosi in cui egli si faceva garbatamente beffa dei sogni modellati con tocco lieve ma sa vide che la loro artificiosità li aveva privati da ogni linfa vitale dopodiché si diede a coltivare consapevoli illusioni gingillandosi con lo studio del bizzarro e dell'insolito come antidoto al luogo comune ma anche queste nozioni rivelarono ben presto la loro meschinità ed aridità carter vide che le dottrine occultiste ad uso popolare erano sterili e dogmatiche come quelle della scienza e prive del temo e palliativo della verità che le riscattasse grossolana stupidità impostura idee abborracciate non hanno nulla da spartire col sogno e non costituiscono affatto una fuga dalla vita per una mente superiore così carter acquistò libri ancora più strani e andò in cerca di uomini più profondi e terribili nella loro fantastica erudizione investigò gli arcani della coscienza che pochi hanno esplorato e apprese i misteri che governano i segreti avissi della vita della leggenda dell'antichità immemorabile misteri che in seguito lo avrebbero turbato per sempre decise di vivere in una dimensione rare fatta e arredò la sua casa di boston per adeguarla ai suoi mutevoli stati d'animo una stanza per ognuno di essi tapezzata con colori opportuni ammobiliata con oggetti e libri adatti e provvista delle fonti adatte a produrre le richieste sensazioni di luce calore suono gusto e odore una volta senti parlare di un uomo che viveva nel sud suggito e temuto per le cose blasfeme che aveva letto in libri preistorici e in tavolette d'argilla trafugate dall'india e dall'arabia andò a trovarlo visse con lui le condivise gli studi per sette anni finché in un cimitero sconosciuto ed arcaico a mezzanotte l'orrore li travolse e soltanto uno uscì dal luogo dove erano entrati in due poi tornò ad arkham la terribile vecchia città del new england infestata dalle streghe dove erano vissuti i suoi antenati e fece certe esperienze nell'oscurità frantichi salici e i tetti cadenti ad abbaino che lo indussero a sigillare per sempre alcune pagine del diario di un antenato stravagante ma simili orrori lo condussero solo ai confini della realtà e non appartenevano al vero paese dei sogni che egli aveva conosciuto da giovane sicché a 50 anni disperava ormai di trovare quiete a pagamento in un mondo che era diventato troppo affaccendato per apprezzare la bellezza e troppo smaliziato per sognare accortosi infine della falsità e della futilità delle cose reali carter trascorreva i suoi giorni in solitudine rimuginando i suoi ricordi frammentari di una gioventù piena di sogni trovo abbastanza sciocco darsi la pena di continuare a vivere e si fece mandare da un conoscente del sud america un liquido piuttosto strano che dava l'oblio senza dolore la bulia e la forza dell'abitudine lo indussero tuttavia a rimandare il suo gesto ed egli indugiava indeciso ripensando al passato tolse la stravagante tappezzeria che ornava le pareti e riarredò la casa come al tempo della sua fanciullezza pannelli di vetro purpure mobili vittoriani e tutto il resto col passar del tempo quasi si rallegrò di aver rimandato il suicidio perché i ricordi di gioventù e il suo distacco dal mondo gli facevano apparire la vita e il suo snobismo remoti e irreali tanto che un tocco di meraviglia si insinuò di nuovo nei suoi torpori notturni per anni quei leggeri assopimenti avevano conosciuto soltanto i riflessi distorti delle cose d'ogni giorno come accade alle persone comuni ma ora un pizzico di magia e di stravaganza li ravvivava qualcosa di vagamente e spaventosamente incombente che assumeva la forza di certe nitide immagini nei giorni dell'infanzia e lo faceva pensare a piccoli episodi senza importanza dimenticati da tanto tempo spesso si svegliava di soprassalto chiamando la mamma e il nonno entrambi nella tomba da un quarto di secolo poi una notte il nonno gli fece pensare alla chiave il vecchio studioso dai capelli grigi vivido come se fosse stato ancora in vita gli parlò a lungo e gravemente della loro antica stirpe e delle strane visioni degli uomini delicati e sensibili che ne avevano fatto parte gli parlò del crociato dagli occhi fiammezzanti che apprese terribili segreti dai saraceni che lo avevano catturato e del primo sir randolph carter che studiò la magia quando regnava elisabetta gli disse poi di quell'edmund carter che era sfuggito per un soffio al capestro nei giorni delle streghe di salem e che aveva riposto in un antico scrigno una grande chiave d'argento ereditata dagli avi prima che carter si risvegliasse il distinto viaggiatore gli spiegò dove trovare la scatola lo scrigno di quersa intarsiato di meraviglie il cui grottesco coperchio non veniva rimosso da due secoli lo trovò fra le ombre e la polvere della grande soffitta remoto e dimenticato in fondo al cassetto di un mobile alto misurava circa 35 centimetri quadrati e gli intagli gotici erano così terrificanti che non si meravigliò se nessuno osava aprirlo dai giorni di edmund carter votendolo non produceva alcun suono ma era impregnato della misteriosa fragranza di spezie sconosciute che contenesse una chiave era solo una vaga lezzenda e il padre di randolph carter non aveva mai saputo che esistesse una scatola del genere era rinforzata da fasce di ferro arrugginite e non era provvista di alcun mezzo per aprire la formidabile serratura carter intuì oscuramente che dentro gli avrebbe trovato la chiave che schiudeva l'ultimo cancello dei sogni ma il nonno non gli aveva detto nulla su dove e come usarla un vecchio domestico forzò il coperchio scolpito tremando alla vista degli orri di volti che lo sbirciavano dal legno annerito e sconvolto dalla loro indefinibile familiarità dentro avvolta in una pergamena scolorita c'era un'enorme chiave d'argento ossidato coperta di criptici arabeschi ma neanche una spiegazione scritta comprensibile sulla voluminosa pergamena c'erano misteriosi geroglifici vergati con un'antica penna di canna in una lingua sconosciuta carter riconobbe i caratteri per quelli che aveva visto in un rotolo di papiro appartenente al terribile studioso del sud che era scomparso a mezzanotte in un cimitero senza nome leggendo quel papiro l'uomo era rabbrividito e in quel momento a carter venne la pelle d'oca tuttavia ripulì la chiave che la tenne accanto a sé la notte nel suo scrigno aromatico di antica querza nel frattempo i suoi sogni andavano facendosi sempre più vividi e sebbene non gli apparisse nessuna delle strane città né alcuno straordinario giardino dei giorni lontani tuttavia assumevano una forma definita e dal significato inequivocabile lo chiamavano indietro negli anni e permeati delle volontà concentrate dei suoi padri lo spingevano verso qualche occulta e primordiale scaturigine allora seppe che doveva ritornare al passato e mescolarsi ad antiche cose e giorno dopo giorno ripensò sempre più intensamente alle colline a nord dove si trovavano l'infestata arkham lo spumeggiante miscatonice e la solitaria e rustica fattoria della sua gente nel tranquillo incendio d'autunno carter prese la vecchia strada mai dimenticata dietro i profili aggraziati delle colline ondulate oltre prati cintati da muriccioli di sassi valli lontane e boschi incombenti stradine serpeggianti e fattorie appartate oltre le anze cristalline del miscatonice attraversato qua e là da rustici ponti di legno o di pietra e ad una svolta egli vide il boschetto di olmi giganti in cui era inesplicabilmente sparito il suo antenato un secolo e mezzo prima era brividì mentre il vento stormiva tra le fronde in modo significativo poi vide la faticente fattoria della vecchia goody fowler la strega con le sue piccole finestre maligne e il grande tetto inclinato fin quasi a toccare il suolo dal lato nord premette l'acceleratore nel passarvi accanto e non rallentò finché non ebbe salito la collina dove sua madre e i suoi avi prima di lei avevano visto la luce e dove la vecchia casa bianca dominava ancora orgogliosamente al di là della strada l'incantevole verticinoso panorama del pendio roccioso e della valle verdeggiante con le distanti guglie di kingsport all'orizzonte e ancor più lontano sullo sfondo un vago accenno dell'antico mare carico di sogni poi ritrovò il pendio più erto dove sorgeva la vecchia dimora dei carter che non aveva più visto da oltre 40 anni il pomeriggio declinava quando ne raggiunse le pendici e ad una svolta a metà della salita sostò ad ammirare la campagna che si estendeva in lontananza nella gloria dorata che il sole al tramonto riversava in obliqui e magici torrenti il paesaggio silente ultraterreno sembrava permeato dalla stranezza dei suoi ultimi sogni e dalla sensazione di un avvenimento imminente carter pensò le ignote solitudini di altri pianeti mentre il suo sguardo indugiava sui prati solinghi di velluto brillanti e ondulati entro i muriccioli di recinzioni caduti stille macchie di foreste fatate che adornavano i profili lontani e purpurei di colline dietro altre colline e sulle valle lugubre e boscose che sprofondavano nell'ombra giù giù fino agli umidi recessi dove acque sorgive cantavano e gorgogliavano tra gonfie e contorte radici qualcosa gli disse che le automobili non appartenevano al regno che andava cercando così abbandonò l'auto sul limitare del bosco e dopo essersi infilata la grande chiave nella tasca della giacca riprese a salire a piedi la collina la boscaglia lo circondava completamente ma egli sapeva che la casa si trovava su un alto poggio che sovrastava gli alberi salvo che sul versante nord si chiese in che condizioni l'avrebbe trovata perché era stata disabitata e trascurata per sua negligenza sin dalla morte dello stravagante pruzio christopher trent'anni prima da ragazzo le sue lunghe visite gli avevano permesso di goderne e trarne piacere e aveva scoperto arcane meraviglie nei boschi al di là dell'orto le ombre s'addensavano intorno a lui perché stava scendendo la sera un'improvvisa radura fra gli alberi sulla destra gli consentì di spaziare su leghe di prati crepuscolari ed intravedere il vecchio campanile della chiesa congregazionalista sulla center hill di kingsport rosa negli ultimi bagliori del tramonto i pannelli di vetro delle piccole finestre rotonde fiammeggiavano di luce riflessa poi quando avanzò di nuovo nell'oscurità gli venne fatto di pensare con un tuffo al cuore che quello scorcio doveva essere scaturito dai suoi ricordi di fanciullo poiché la vecchia chiesa bianca era stata demolita da moltissimo tempo per far posto al congregazional hospital aveva letto la notizia con interesse perché il giornale aveva accennato a misteriosi cunicoli o passaggi scoperti nella collina rocciosa sottostante stupore si aggiunse a stupore quando con un sobbalzo udì risonare una voce nota dopo trent'anni il vecchio benì a corei era stato il tutto fare dello zio christopher ed era già anziano all'epoca delle sue visite da fanciullo adesso doveva avere più di cent'anni ma quella voce stridula non poteva appartenere a nessun altro non riusciva a distinguere le parole eppure il tono era ossessionante e inconfondibile pensare che il vecchio benigì fosse ancora vivo signorino randi signorino randi dov'è stato vuol far prendere un colpo a sua zia marty non ne ha forse detto di restare nei paraggi e di tornare a casa non appena si fosse fatto buio randi randi è il ragazzo più vagabondo che abbia visto vagare nei boschi tutto il tempo a ciondolare intorno alla tana dei serpenti nel bosco alto ehi randi randolf carter si fermò nell'oscurità ormai fitta stroppicciandosi gli occhi con le mani c'era qualcosa di strano era stato dove non avrebbe dovuto andare si era spinto molto lontano dai confini della proprietà e adesso era ingiustificabilmente in ritardo non avevo fatto attenzione allora sul campanile di kingsport anche se gli sarebbe stato facile con il suo cannocchiale da tasca ma sapeva che il suo ritardo era qualcosa di molto strano e senza precedenti non era neanche sicuro di avere con sé il cannocchiale e infilò la mano nella tasca del giubbotto per controllare no non c'era ma in compenso c'era la grande chiave d'argento che aveva trovato in una scatola da qualche parte zio chris gli aveva detto una volta cose bizzarre circa una vecchia cassetta mai aperta contenente una chiave ma zia marta aveva interrotto bruscamente il suo racconto prontolando che non erano cose da dire a un bambino che aveva già la testa troppo piena di strampalate fantasticherie cercò di ricordare il posto preciso dove aveva scovato la chiave ma c'era qualcosa che non quadrava gli pareva che fosse stato nella soffitta di casa a boston e rammentava vagamente di aver convinto parks offrendogli metà della sua paga settimanale ad aiutarlo ad aprire la cassetta senza farne parola con nessuno ma quando gli tornò in mente questo dettaglio la faccia di parks gli apparve molto strana come se le rughe di lunghi anni si fossero addensate d'un tratto sul vispo piccolo londinese randi randi ehi ehi la randi una lanterna ondeggiante comparve sulla curva della strada immersa nel buio e il vecchio benicià si avventò sulla figura silenziosa e attonita del pellegrino che il diavolo se la porti signorino vedo che è proprio lei si è mangiato la lingua che non mi risponde è mezz'ora che la chiamo avrebbe dovuto sentirmi da un pezzo non sa che sua zia marta sta sulle spine perché lei rimane fuori di notte aspetti che torni suo zio chris gli racconterò tutto dovrebbe sapere che questi boschi non sono un posto per andare a passeggio a una certa ora e sono in giro cose che non fanno bene a nessuno ho già detto al padrone venga venga signorino randi se no hannah non le tiene da parte la cena così randolph carter fu sospinto lungo l'erta stradina su cui brillavano stelle stupite attraverso gli alti rami autunnali e i cani abbaiarono quando la luce gialla delle finestre dai piccoli pannelli di vetro rifulse alla svolta successiva e le pleiadi ammiccarono oltre la radura del poggio dove un grande tetto spiovente si stagliava nero contro il pallido occidente zia marta era sulla soglia e non sgridò troppo severamente il vagabondo quando benicialo spinse dentro conosceva zio chris quanto bastava per aspettarsi simili comportamenti dai carter randolph non fece vedere la chiave ma ce l'ho in silenzio protestando soltanto quando giunse l'ora di andare a letto a volte sognava meglio da sveglio e voleva adoperare quella chiave randolph si alzò presto il mattino dopo e sarebbe scappato di corsa nel bosco alto se zio chris non lo avesse acchiappato costringendolo a sedersi al tavolo della colazione osservava impaziente tutto intorno la stanza dal soffitto basso con travia vista come pure le pietre angolari e il rustico tappeto sorridendo solo quando i rami degli alberi del frutteto grattavano i vetri piombati della finestra sul retro gli alberi e le colline gli erano vicini e costituivano i cancelli di quel reame senza tempo che era la sua vera patria poi quando potei farlo liberamente si tastò la tasca del giubbotto per sentirne la chiave rassicurato corse attraverso il frutteto verso il pendio sovrastante dove la collina boscosa si innalzava più alta del poggio senza alberi nella foresta il terreno era strano e muscoso e grandi rocce coperte di licheni spuntavano qua e là nella luce pallida come monoliti druidici tra i tronchi gonfi e contorti di un bosco sacro una volta mentre saliva randolph attraversò un turricello impetuoso le cui cascate più a valle cantavano in cantesimi lunici ai fauni alle driadi e agli egipani nascosti poi raggiunse la strana glotta del pendio boscoso la temuta tana dei serpenti evitata dai contadini e dalla quale beniciallo aveva esortato tante volte a tenersi lontano era profonda molto più profonda di quanto chiunque salvo lui sospettasse perché il ragazzo aveva scoperto una fenditura nell'angolo più buio lontano che metteva in una grotta ancora più grande un luogo ossessionante sepolcrale le cui pareti di granito suggerivano la singolare impressione che non fosse naturale vi strisciò dentro come sempre facendosi luce con gli zolfanelli sottratti alla scatola del salotto e si infilò nella fenditura con un'impazienza che lui stesso non sapeva spiegarsi completamente ne poteva dire perché s'avvicinasse con tanta fiduciosa baldanza alla parete in fondo alla grotta o perché nel far questo tirasse fuori istintivamente la chiave mandò avanti e quando quella sera ritornò a casa saltellando di gioia non si scusò per il ritardo ne fece caso ai rimproveri che si attirò per aver ignorato il richiamo del corno che annunziava il pranzo di mezzogiorno oggi tutti i parenti lontani di randolf carter concordano nel ritenere che sia successo qualcosa che accese la sua fantasia quando aveva dieci anni suo cugino il signor ernst b espinwall di chicago ha giusto dieci anni di più ricorda perfettamente il cambiamento sopravvenuto nel ragazzo dopo l'autunno del 1883 randolf aveva avuto visioni fantastiche che pochi altri possono aver condiviso e più strano ancora era diventato il comportamento che mostrava in rapporto alle cose della vita ad ogni giorno sembrava aver acquistato una singolare dote profetica e reagiva in maniera spropogitata a cose che sebbene momentaneamente insignificanti si dimostravano in seguito tali da giustificare il suo atteggiamento nei decenni seguenti man mano che nuove invenzioni nomi nuovi avvenimenti eclatanti si inscrivevano nel libro della storia di quando in quando la gente ricordò con meraviglia come carter anni prima avesse lasciato cadere con non curanza qualche accenno a ciò che era allora tanto lontano nel futuro e gli stesso non capiva cosa significassero questi accenni ne sapeva perché certe cose gli provocassero determinate emozioni ma congetturava che fossero da attribuirsi a qualche sogno dimenticato fu all'inizio del 1897 che gli impallidì quando un viaggiatore manzionò la città francese di bellois santer e i suoi conoscenti se ne ricordarono allorché rimase ferito quasi mortalmente nel 1916 proprio in quella località mentre combatteva nella legione straniera all'epoca della grande guerra i parenti di carter discutono a lungo di queste cose perché recentemente egli è scomparso il piccolo vecchio domestico parks che per anni aveva sopportato con pazienza le sue stravaganze lo vide per l'ultima volta il mattino in cui se ne andò via solo in automobile portando con sé una chiave scoperta da poco parks aveva aiutato il suo padrone a tirar fuori la chiave da un vecchio scrigno ed era rimasto stranamente turbato dai grotteschi intarsi della cassetta e da qualche altra bizzarra peculiarità che non sapeva definire partendo carter gli aveva detto che andava a visitare la vecchia proprietà a vita nei dintorni di arkham a metà della salita che si nerpica sulla el montaigne sulla strada che conduce alle rovine della vecchia casa dei carter era stata trovata la sua auto parcheggiata con cura su un lato della careggiata e dentro vera uno scrigno di legno profumato con intarsi che spaventarono i contadini che lo scopersero per caso lo scrigno conteneva soltanto una bizzarra pergamena le cui iscrizioni nessun linguista o paleografo è stato capace di decifrare o di identificare la pioggia aveva cancellato da tempo eventuali orme benché gli investigatori venuti da boston avessero qualcosa da dire circa le tracce trovate fra le travi cadute della fattoria dei carter dichiararono infatti che era come se qualcuno avesse cercato a tentoni qualcosa tra le rovine in un periodo abbastanza recente un comune fazzoletto bianco rinvenuto fra le rocce nel bosco oltre il poggio non poté essere identificato come appartenente all'uomo scomparso circolano chiacchiere di un'imminente divisione del patrimonio di landolf carter fra gli eredi ma io mi opporrò con decisione perché non credo sia morto vi sono intrezzi di tempo e spazio visioni in realtà che soltanto un sognatore può intuire e per quel che so di carter sono convinto che gli abbia semplicemente trovato un modo per attraversare quei labirinti ma non saprei dire se un giorno tornerà indietro e gli desiderava ardentemente il paese dei sogni si struggeva per i giorni della sua fanciullezza poi trovò una chiave e per certi versi credo sia stato capace di usarla con singolare profitto glielo chiederò quando lo incontro perché mi aspetto di vederlo in una città dei sogni che entrambi visitiamo spesso a ultar oltre il fiume sky si dice che un nuovo sovrano regni sul trono di opale di il ecvad la favolosa città turrita sulla sommità delle irreali scogliere di cristallo che sovrastano il mare crepuscolare dove gli ignorri barbuti e provvisti di pinne costruiscono i loro pizzerri labirinti e credo di sapere come interpretare questa voce certamente sono ansioso di vedere la grande chiave d'argento poiché nei suoi criptici arabeschi può darsi che siano simboleggiati i disegni e i misteri di un universo cieco e impersonale grazie a tutti